DATEMI DIGI SOLDI DATEMI DIGI SOLDI DATEMI DIGI SOLDI Bella ragazzi, siamo qui a ELELE Ci siamo truccati da Pagliacci Oggi è sabato 18 Il secondo giorno qui al Torino Comics Vediamo cosa riusciamo a combinare Buongiorno, benvenuti al Torino Comics Tutto ci sono i horror bad guys Vi fanno soltino agli horror bad guys Oggi siamo agli horror bad guys C'è qui, yesssiamo alle horror bad guys Grazie Usiamo ragazzi Zofia Zofia Il manager dei tre giorni di Torino Comi Non vado a casa Sta continuando lo spettacolo, abbiamo appena finito il combattimento C'è stata un'idea grado Vantaggio Ragazzi, che lo fate un saluto al Torino Comi Su, su, su le mani Su le mani Stavo nei matti Horror, bad guys Horror, bad guys qui domenica 19 aprile Ultimo giorno del Torino Ciao Ciao Questo è l'alfakir Io, Aleksandra, devo mangiare qua tutta Ciao Un saluto a Giancarlicchi Venga venga Faccio vedere gli argomini Andiamo, andiamo Faccio un saluto agli horror bad guys Un saluto agli horror bad guys Faccio un saluto agli horror Non posso pensarci Con uno dei miei preferiti Con uno dei miei preferiti Con uno dei miei preferiti E' un saluto agli horror bad guys Eccolo qua Marti P Ciao 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 ragazzi Sì Un saluto agli horror Yes Un saluto agli horror Un bel bacione Oh Bella piccante Quante traccine Ciao ragazzi Un bel bacione Wow 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 Oh Yeah Wow Yeah Wow Wow I'm in front Grazie a tutti Siamo già saltissimi ragazzi Grazie ancora al Torino A Torino Comi E a tutti quelli che oggi sono qua Perché sono stati fantastici Siete stati tutti vicino Siamo qui alla fine del Torino Comix Sono qui con Francesco Interpreta Tony Stark Faccio un salutino Ciao ragazzi E' stata una bella avventura Vi siete divertiti voi? Sì Bellissimo Ragazzi mi raccomando Ciao Gesco Ciao ragazzi Ciao ragazzi Siamo arrivati alla fine di queste Tre magnifiche giornate del Torino Comix Volevamo ringraziare tutti quelli Che si sono fermati con noi Che hanno fatto le foto Che ce le hanno postate sulla pagina E chi ce le posteranno E chi ce le posteranno Vi invitiamo a mettere mi piace A tutte le nostre pagine Quindi a quella del Diori Gang Horror Bad Guys Dimensione Randaggio Creepy Crew Lo spacciarune Lo spacciarune Iscrivetevi al canale Mettete un bel like a questo video Avere l'esperienza dello stand È stata un'esperienza da subito Saluto a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima